L'equazione algebrica associata all'equazione differenziale è questo qua nel riquadro, quindi l'alfa che serve per far sì che E alla alfa t sia soluzione non può essere un'alfa qualsiasi, deve essere soluzione di questa equazione algebrica. Allora ci sono due alfa, questa è l'allergia, ci sono due alfa in generale e ce n'è uno con il segno più e il segno meno, quindi questa è l'equazione che sapete già da tanti anni, ok? Quindi questo è, no? D'accordo? Questa è scritta papale papale dalla formuletta delle medie e semplicemente per scriverla qua ho portato il 2 dentro, cioè ho portato, vabbè c'è meno b diviso 2m e mi sta bene, ma questo 2 lo porto sotto il segno di, come si chiama questo? Il segno della radice, si dice radicata, come si chiama l'italiano? Vabbè, è sotto il segno della radice, sì. Quindi portandolo sotto il segno della radice il 2 diventa un 4 e nel denominatore che poi avanzerà il 4 che è là, ok? Quindi questa è l'alfa, quindi la soluzione ce ne sono di due tipi, in uno col segno più, in uno col segno meno, in generale la soluzione generale sarà la somma di questi due tipi, e come vedete, quindi l'esponente alfa, alfa t, alfa è fatto in due pezzi, allora per la proprietà degli esponenti, no, e alla a più b è uguale a e alla a per e alla b, qui io scrivo due esponenti, prodotti due esponenti, un primo esponente e un secondo esponente, il primo esponente si piglia questo pezzo di alfa, e il secondo esponente si piglia questo pezzo di alfa. Allora, prima cosa a notare è, guardate il secondo pezzo, l'esponente è il secondo pezzo, se per caso b quadro diviso 4m è maggiore di k diviso m, allora l'argomento della radice è positiva e la radice di un numero positivo è un numero reale, senza problemi, ok? Quindi, quando avete questo, tutto è reale, per esempio, guardate, il caso positivo con il segno più, i fisici dicono che non è fisico, perché, guardate cosa succede, se io metto il segno più, se il discriminante è positivo, cioè il discriminante è l'argomento della radice, no? Se il discriminante è positivo, allora mi trovo ad avere la parabola che intersega l'asse x in due punti, ho due zeri, sono distinti, e questo è quello con il segno più, cioè quello dove ho il segno più qua. All'aumentare del tempo, se questa roba è positiva, se questa roba è positiva, questo è ovviamente la radice quadrata di un numero positivo, è un numero perfettamente normale, addirittura è un segno più, quindi ho un esponente positivo che cresce appunto l'esponenzialmente del tempo. quindi la posizione sembra esplodere esponenzialmente, quindi non è un comportamento fisico, è una soluzione matematica, ma non soddisferà altre leggi fisiche di cui parleremo in futuro, in particolare la conservazione dell'energia, non è fisico, quindi non si discute, si mette nel cestino, non tanto per tirare l'acqua, no, lo mettiamo nel mondo della matematica non applicata al mondo della fisica, perché viola un'altra legge fisica, invece col segno meno è interessante quello che avviene, se io prendo la soluzione col segno meno, e quindi qua c'è un segno meno, ho un esponenziale decrescente del tempo e ne ho un altro qua, quindi la soluzione col segno meno ha un comportamento che è interessante, anche questo a prima vista viola la conservazione dell'energia, però in realtà è che ho l'energia meccanica che è convertita in energia termica, e questo torna a quel comportamento che molti di voi si aspettano, se io ho un sacco di attrito, se riempio la mia famosa camera, quindi questo è il pavimento, questo è la sponda, questa è la mia grande camera con il passante a tenuta di fluido, qua ho il corpo sul mio tavolo, questa è la gigantesca camera, e se io riempio questo di k trame, e io sposto il corpo dalla posizione x uguale a 0, lo metto qua, e mollo la presa, quello che succederà è che il fluido viscoso, il coefficiente di fluido viscoso al quadrato diviso 4m è molto più grande di k diviso m, quello che succederà, se io faccio il grafico di x in funzione del tempo, è che lui partendo dal valore iniziale, lo chiamiamo x0, muore esponenzialmente, lentamente si avvicina a x uguale a 0, se il k trame potrebbe impiegare migliaia di anni per arrivarci, il k trame è un fluido, come anche il vetro tra l'altro, se voi riempite questo di vetro, il vetro è un solido, si ma un solido amorfo, che su scala geologica si composta con un fluido, fluisce il vetro, e quindi lentamente quella massa potrebbe passare su tempi geologici lentamente, lentamente, e quindi la massa potrebbe passare su tempi geologici lentamente, le cose sono interessanti quando il discriminante è negativo, quando il discriminante è negativo, quando è uguale a 0, cosa succede secondo voi? quando è uguale a 0, tutto questo è uguale a 0, o e alla 0, quindi è 1, ma l'inimale è questo! e quindi questo cos'è? Quindi quando il discriminante è uguale a 0, ho questa equazione, che può essere benissimo disegnato, e anzi, dove disegniamo? no? x di t è almeno 2m, vedete che c'è questo pezzo? quando il discriminante è 0, il pezzo in arancione vale 1, ma rimane comunque questo pezzo, questo pezzo c'è sempre, e quindi quando il discriminante è uguale a 0, dalla posizione iniziale, lui muore esperienzialmente con un tempo caratteristico, quanto vale il tempo caratteristico? è uguale a 2m diviso b, e quindi quando ho un b molto grande, cosa succede a tau? e quando ho un b molto piccolo cosa succede? a tau molto grande, quindi pensate alle varie possibilità, ok? ma comunque è una morte esponenziale, quindi non è uguale a tau molto grande, questa è una morte esponenziale, perché decresce col segno meno, una morte esponenziale, adesso voglio discutere il caso in cui il discriminante è negativo, perché quando il discriminante è negativo, ecco che abbiamo bisogno dei numeri complessi di nuovo, non vi pare? ed ecco che appare di nuovo, almeno in parte dell'equazione, il teorema di O'Lero, la scriviamo così, se è b quadro diviso 4m quadro minore di k, allora questa cosa qua, proviamo a scriverla così, fatemi pensare un attimo, ho semplicemente messo in evidenza un segno meno, ok? non ho fatto niente, ho semplicemente scritto in maniera furba, quindi se siamo in questo caso, caso che questo è minore di quello, questo diventa positivo, quindi ho fatto semplicemente in modo di scriverlo come qualcosa di positivo per un segno meno, e siccome va sotto l'addice quadrata, ecco che faccio così, questo avrà qualcosa di positivo, quindi questa roba qua, questa roba qua, attenzione, quanto vale quella roba la, questa nella parentesi arancione, quanto vale questa roba qua? quando non c'è fluido viscoso, cioè se nella vostra, lo continuo a cancellare, mi servono anche fatti sul disegno, io non lo tocco più, questa è la vostra enorme camera, la tenuta, e qua ci fate entrare, o togliere il fluido, quando il fluido non c'è, cioè l'avete rimosso, per esempio ci attaccate a una pompa e togliete anche l'aria, c'è del vuoto là dentro, il fluido non c'è, B vale 0, d'accordo? In assenza di fluido, questo si riduce al caso di una massa attaccata a una molla, ok? Quindi quando togliete il fluido, questo si riduce a K diviso M, K diviso M come l'avevamo chiamato? Guardate il vostro tatuaggio, K diviso M l'avevamo chiamato Omega 0 quadro, quindi Omega 0 la chiamerò la pulsazione della molla ideale, della molla senza fluido, ma proprio perché K diviso M è una Omega al quadrato, questa roba in arancione la chiamerò una Omega al quadrato, ispirandomi al fatto che K diviso M è una Omega quadro, questa roba qua la chiamerò non una Omega piccola, ma una Omega grande, una Omega 1, la chiamerò Omega, perché quando il fluido non c'è, sarebbe Omega al quadrato, quindi chiamo quella roba Omega al quadrato, K diviso M la chiamo Omega al quadrato, quindi con questa ispirazione, questa roba qua, cioè la roba che è qui, può essere scritta come I Omega, Omega non vi pare? Perché Omega al quadrato è positivo, qua c'è il meno 1, quindi la radice di meno 1 mi da I, e la radice di Omega 4 mi da Omega, no? Ci siamo? Quindi quando il discriminante è negativo, questo pezzo qua sto per cancellarlo, quindi voi scrivete uguale, questa roba qua, anzi non lo faccio, lo faccio come è che il nostro quadrato, è x0 e alla meno b diviso 2md, questo c'è sempre, nella misura in cui b è diverso da 0, questa cosa c'è, deve essere molto chiaro che questo pezzo c'è nella misura in cui b è diverso da 0, se b non ci fosse, se il fluido non ci fosse, questo diventerebbe 1, perché b sarebbe 0, tutto questo, se b fosse uguale a 0, sarebbe 1, se b fosse uguale a 0, questa roba qua sarebbe e alla meno, e alla, qua sto facendo il caso meno, intanto sto facendo il caso in cui b quadro diviso 4m quadro minore di k diviso m, questo è il caso che sto facendo, e quando il discriminante è negativo ho benissimo tutti e due i casi qua, per tutti e due le alfa, quindi quando b è uguale a 0, questo si riduce ad essere, e alla più o meno, i omeguino t, d'accordo? questo va a 1, questo va a questo, quando b è uguale a 0, quindi stiamo mettendo b, stiamo mettendo un fluido, ma un fluido, tale che questa combinazione di parametri sia soddisfatta, quando il fluido non c'è, questo è 0, è ovvio che questo è positivo e maggiore, quando il fluido è piccolo, questo è un numero più piccolo di questo, siamo in questo caso, finché il fluido c'è, b diverso da 0, allora questo non è 1, e questo non è più o meno, è i omeguino t, ma è cosa? Con b diverso da 0 ho tutto questo, moltiplicato e alla più o meno i omeguino t, ridonati! Tutto questo può essere scritto così, quindi questo è il caso, attenzione sto facendo questo caso qua, questo caso qua, che il fluido ci sia, ma che abbia un coefficiente di attrito viscoloso piccolo, piccolo in che senso? piccolo nel senso, che b quadro diviso 4m quadro è minore di k diviso m, piccolo in quel senso! Cosa vuol dire b piccolo? Attenzione, questa è una domanda che ogni tanto faccio, vi faccio un favore facendo qui questo appunto, poi lo ridirò qualche minuto, una volta che abbiamo capito che aspetto ha questa funzione, che aspetto ha! Io potrei chiedervi, ma quando è che avrò una cosa leggera? Quando è che potrò scrivere così? Vedete che appare qua il numero complesso? Vedete che questo è il numero Deolero, no? Quindi continuiamo a scriverlo, dov'è il cancellino? Lo vedete? Allora, quando è che avrò x di t avere questo aspetto? Avrò quando questo è il più grande di questo, è prematuro che ho fatto, devo continuare a parlare, poi sarà pronto per commentare quello, è prematuro, bisogna mettere l'altra canna sul fuoco, cerchiamo di capire cos'è questo, Allora, di nuovo qua c'è il famoso funetto, no? Voi avete una massa che sta facendo un moto rettilineo, avanti e dietro, avanti e dietro, è un coseno, è un sinusoide, e uno si chiede, che cazzo è l'angolo? E la persona che ha studiato dice l'angolo è nella mia testa, nel piano dei numeri complessi, ok? Allora, guardate, io voglio riscrivere nel caso che B sia uguale a 0, cosa succede quando il fluido non c'è? Guardate la formula e scrivete nel caso in fluido non c'è, e l'abbiamo fatto un'ora fa, e la riscrivo nel caso in cui il fluido non c'è, x di t è fatto così, come x zero coseno di omeghino t più i volte seno, o più o meno, omeghino per t, ok? questo nel caso senza fluido, dove posso disegnare? qua, nel caso senza fluido, questo è il mio numero complesso nel piano dei numeri complessi, e se prendo la versione reale, prendo la versione col segno più, ha il tipo di soluzione col segno più, questo è un numero complesso che è qui e si sposta di moto circolare uniforme nel piano dei numeri complessi, e continua a girare con una pulsazione con una velocità angolare che è uguale a omega 0, e coseno omega 0 è la radice quadrata di k di iso m, ma nel momento in cui c'è fluido cosa succede? ho un nuovo numero complesso che è all'i omegona t, che anche questo gira nel numero complesso con una pulsazione diversa, però non è più omeghino, ma è omegona, ma quel numero complesso è moltiplicato per un'esponenziale decrescente, cosa vuol dire? che il modulo del numero complesso non rimane costante, ma il numero complesso fa una moto a spirale, sta morendo esponenzialmente, quindi se io vi chiedo di scrivere la parte reale di questo, cosa scrivereste? che 0 è al meno b diviso 2mt coseno di omegona t, se la disegnate che aspetto lo ha? mentre io preparo il disegno vi dico a parole come si chiama, è un'oscillazione sborzata, qualcuno ha idea di che aspetto lo ha? certo, l'avete visto sta roba, il grafico di questa funzione qui, parte da questo valore qua, disegno per guidarmi del disegno un'esponenziale decrescente, questo si chiama l'inviluppo, e questo sta cercando di oscillare come un coseno, vedete che un coseno sta cercando di oscillare come un coseno, ma è moltiplicato per qualcosa che sta diventando sempre più piccolo esponenzialmente, vedete è un coseno, certo moltiplicato per x0, ma è un coseno per x0 per questa roba qua, quindi sta facendo così, ok? sta morendo esponenzialmente, questa è una morte esponenziale, qualcosa che sta oscillando, ma l'inviluppo è un'esponenziale decrescente, con un tempo caratteristico che è 2m diviso b, cioè io posso disegnare quell'esponenziale, posso disegnare quell'esponenziale in maniera sistematica, cosa devo fare? tanto devo fare spazio? come è in questo modo qua, quindi sto facendo il caso che il discriminante sia il suo iniziativo, sia negativo sto facendo questo caso qua che b quadro diviso 4m quadro sia minore di k diviso m Ho due tempi caratteristici non vi pare? Ho due tempi caratteristici 1 è il tau dell'esponenziale reale cioè questo che è qui è alla meno b diviso 2mt cioè il tau qua chiamiamolo il tau 1 è uguale a 2m diviso b poi c'è un altro tempo caratteristico che è il periodona 2 pi greco diviso omegona e cos'è omegona? sono due tempi qua uno è il periodo di oscillazione del coseno e l'altro è il tau che appare qui e sono due tempi diversi guardate cosa sta succedendo questa qua magari lo scrivo così meno t diviso tau cioè questo tau e c'è il periodo di questo io devo fare il prodotto di questa funzione e di questa funzione disegniamo questa funzione qua questa funzione è un coseno che va da x0 a meno x0 devo disegnarlo e devo mettere la base dei tempi le tacche temporali quale sono le tacche temporali per il coseno? uso il periodo la periodona la periodona che è 2 pi greco diviso l'omegona notate come la formula è la stessa il periodo è uguale a 2 pi greco diviso l'omegina qual è l'idea? è che ho la fase che varia linearmente nel tempo ho la fase questo è la fase cioè l'argomento del coseno che varia finalmente nel tempo mi chiedo quanto tempo mi serve per avere 2 pi greco questo lo chiamo il periodo eh? la periodona ecco qua la periodona guardate com'è fatta ok? quindi immaginate che questa sia la tacca per poter disegnarlo facciamolo, lo so, così questo è un quarto, tre, due quindi coseno è questo e questo dovrà essere moltiplicato che è una funzione fatta così che vale 1 quando t uguale a 0 e muore esponenzialmente con un tempo caratteristico allora il tempo caratteristico di questa qua è diversa dal periodo dell'omegona dell'oscillazione ok? quindi immaginate che sia una funzione fatta così che abbia un andamento molto tau molto grande questa è una decrescita esponenziale ok? sembra una retta semplicemente perché è così lunga tau che non vi accorgete quella è un'esponenziale voi dovete moltiplicare questo per questo cosa succede? che avete appunto questa muore esponenzialmente cioè questo valore qui invece di essere x0 va moltiplicato per qualcosa che è minore di 1 e quindi non è qui ma per esempio è qui questo qua, questo valore questo è 0 questo valore qui viene moltiplicato per qualcosa che è minore di 1 quindi non è qui ma per esempio è qui quindi avete appunto per l'appunto questo è 0 e rimane 0 ovviamente dov'è? quindi questo sta facendo così però poi passa per di qua ovviamente per lo 0 passa lo stesso poi passa per di qua lo vedete? che il prodotto di un coseno per qualcosa che muore esponenzialmente per l'appunto è un coseno sborzato si dice è un'oscillazione sborzata alcuni di voi l'hanno sentito cosa succede se la funzione va giù più velocemente? cioè se il tau se il tau di questa funzione è più corta cioè se voi fate una esponenziale che è più potenciata per esempio una cosa che va giù così cosa succede? forse voi esagerate perché voglio fare il caso limite voglio fare un caso che muore così ok? allora vabbè questo è 0 rimane il cambio colore questo valore qui questo valore qui va moltiplicato per il 40% magari qui questo valore qui ormai come vedete praticamente è morto quindi sta facendo così poi ripasso per lo 0 vedete che avere un esponenziale che va giù più in fretta con un tempo cardisio più corto fa sì che il prodotto di questo per questo sia smorzato molto di più c'è qualcuno che non capisce quello che sto facendo? alzi adesso la mano guardate adesso devo essere molto chiaro spero di rendelo chiaro se non farò uno sforzo maggiore giovedì guardate questo tau qua e questo periodona qua cosa succede all'aumentare di B? anzi prima facciamola al diminuire di B se B diventa molto piccolo cosa succede a tau? diventa molto grande infatti se B tende a 0 tau tende a infinito quindi quando B è uguale a infinito siccome lasciamo perdere l'infinito tende a infinito qual'è il grafico di questa funzione qua? è un 1 che prima di vedere che crolla che sta cambiando esponenzialmente avete bisogno di un sacco di tempo più piccolo è B più B tende a 0 più questa funzione tende alla funzione 1 d'accordo? più B comincia a crescere più questa funzione comincia a non essere costante sta morendo esponenzialmente ma per B che diventa sempre più grande questa sta facendo così per B che diventa ancora più grande questo comincia a fare così ancora più grande comincia a fare così ancora più grande fa così all'aumentare di B queste funzioni vanno così all'aumentare di B Tau diventa sempre più corto cosa succede all'aumentare di B qui? prima pensate a cosa succede quando B è molto piccolo quando B è molto piccolo cosa succede? quando B tende a 0 siete d'accordo? che la Tau questa qua tende al periodo con omeghina per questo che tende a 0 questo tende a omeghina e quindi avete due file che sono omeghina e la Tau grande coincide con Tau il periodo grande la periodona coincide con il periodo senza attrito d'accordo? ma cosa succede se B cresce? se B cresce avete qualcosa meno qualcosa quindi questo diventa un numero piccolo è nel denominatore quindi questo cresce quindi all'aumentare dell'attrito viscoso il coefficiente dell'attrito viscoso questo diventa sempre più grande all'aumentare dell'attrito viscoso questo diventa sempre più corto la Tau viene sempre più corta c'è un conflitto? quindi voi siete un oscillatore senza attrito andate avanti e indietro con l'attrito state oscillando in maniera sborzata se l'attrito è troppo se l'attrito, il coefficiente di attrito è troppo grande comincia ad essere molto grande in che senso molto grande? comincia ad avvicinarsi al valore K diviso M cioè finché B è molto piccolo allora questo lo riscrivo in grande perchè non mi piace qua questa è la condizione che io sto studiando se B è molto piccolo questo è molto più piccolo di questo se B cresce certo che rimane questo perchè sto studiando questo caso ma si sta avvicinando a questo valore B cresce e si sta avvicinando a questo valore è sempre negativo e discriminante però comincia ad essere sempre più piccola la differenza tra questo e questo e diventando sempre più piccola la differenza questo meno un numero che gli è molto vicino minore di questo ma questo diventa un numero sempre più piccolo quindi questo va sempre più su quindi cosa succede? che il tempo della morte esponenziale sta diminuendo ma il tempo che vi serve per andare e tornare sta allungando e cosa succede? che se il tempo per la morte esponenziale diventa troppo corta voi non avete il tempo di andare e tornare perchè siete già morti esponenzialmente finché questo è molto piccolo voi avete un sacco di tempo per andare e tornare prima che qualcuno si accorge che non tornate esattamente allo stesso valore ma tornate qua poi tornate qua poi tornate qua avete un sacco di periodi prima di accorgervi che non state tornando indietro e siete sforzati d'accordo? quando B è piccolo lo so che lo sto raccontando in maniera un po' pallosa ma è molto importante non so come comunicarlo se l'attrito è piccolo io riesco ad andare e tornare un sacco di volte il coseno riesco ad andare e tornare un sacco di volte prima che la diminuzione esponenziale diventi significativo invece se l'attrito è molto importante io muoio esponenzialmente prima di riuscire a fare un numeroso andato e tornare se siete stanchi e stufi e avete già capito andate via io sto cercando non sono soddisfatto perché non lo racconto quindi insisto finché o si esaurisce il tempo o non lo dico come io ritengo essere chiaro io sto cercando di mettere nei posti panni immagino che non capite del tutto questo rappresenta meno x uguale a 0 questo x uguale a 0 in blu facciamo la ragione è la curva esponenziale l'inviluppo per intenderci come vedete sta calando esponenzialmente ma con molta regolarità direi che la tau forse corrisponde a più di un metro non vi pare sul disegno prima di scendere questo prima di scendere al 36% questo è 1 prima di arrivare qua giù probabilmente ho bisogno di una base di termi lunga così sulla ragna ho un tau molto lungo d'accordo? l'attrito è piccolo il tau è lungo l'attrito è piccolo il tau è lungo il tau è lungo quindi ho bisogno di tanto spazio per disegnare quel calo esponenziale nel frattempo ecco la mia funzione coseno di omegona t che sta oscillando allegramente e riesce a fare un sacco di oscillazioni perché il tempo per andare circa a tornare è questa qua e io come vedete il periodo d'1 è di qualche centimetro è di 10 centimetri quindi 10 centimetri sull'area invece la tau è di quasi 2 metri o di 1 metro e mezzo quindi ho un tau che è molto grande rispetto al tempo che mi serve per andare a tornare nel coseno quindi in un tau così io riesco ad andare a tornare un sacco di volte se il tau fosse infinito cosa che è b uguale a 0 riuscirei ad andare avanti e indietro il coseno non riuscirebbe a fare tanti periodi perché questa parte non sta morendo esponenzialmente cosa succede invece se la mia funzione esponenziale è così? vedete che non riesco a fare oscillazioni ma la cosa più grave è che questo tempo qui io ho chiamato tau ma cosa diventerebbe se aumento di b? non sarebbe più questa sarebbe di più quindi il tempo per andare e tornare sta aumentando questo sta aumentando con b con b che cresce e il tempo per morire esponenzialmente il tau sta decrescendo all'aumentare di b quindi questo cresce all'aumentare di b quindi all'aumentare dell'attrito io muoio esponenzialmente senza avere il tempo di andare e tornare e se addirittura se addirittura questo è uguale o maggiore di questo non oscillo per niente muoio prima di fare alcuna oscillazione l'oscillazione vuol dire andare e tornare beh se ho troppo attrito intesi questo senso non c'è alcuna oscillazione muoio non riesco ad andare e tornare perché muoio prima quando l'attrito è piccolo riesco ad andare e tornare un sacco di volte all'aumentare dell'attrito il tempo a disposizione per andare e tornare sta diminuendo e il tempo che impiego per tornare sta aumentando aumento l'attrito il tempo a disposizione per tornare sta diminuendo A un certo momento non riuscirò, quando il discriminante diventa positivo Non riesco più a oscillare, non c'è più un'oscillazione Se per oscillazione intendiamo, tra amici, il tentativo di andare a tornare Perché a rigore, questo lo dirò di nuovo a giovedì Parlo qualche battuta, l'essenziale credo di averlo detto abbastanza bene Per oscillazione si intende che il corpo ritorni dov'era Va e torna In presenza di attrito non torna esattamente dov'era Era partito qui, mica è tornata x0, manca un po' Quindi questa qua è un gerbo che uso io Forse qualche testo non usa La chiamo pseudo oscillazione Perchè per me è oscillazione E di solito, in generale per le persone, è un'oscillazione di qualcosa Che va e torna, torna, torna Lo stesso valore Se va e quasi torna non è un'oscillazione La chiamo pseudo oscillazione Quindi con attrito voi non avete oscillazione Avete pseudo oscillazione Avete un tentativo di tornare indietro al valore iniziale Ma non ci riuscite mai del tutto Se l'attrito è piccolo, quasi ci riuscite E se l'attrito è grande Lo scarto diventa più grande Ma se l'attrito cresce troppo Non fate nemmeno una pseudo oscillazione Perchè non avete il tempo di farlo, siete già morti Perchè questo pezzo vi ha ucciso Questo pezzo qui è la mortalità Siamo mortali Questo è qualcosa che vorrebbe oscillare per sempre Questo è immortale Questo è la mortalità Questo introduce la storia Perchè questo qua non è storia E' sempre lo stesso Avanti e dietro, avanti e dietro, avanti e dietro, avanti e dietro Che palle E' questo che vi rende mortali Morite E' la morte spoliziale E se la morte spoliziale è troppo rapida E il tempo per andare e tornare Per parte di questo è troppo lungo Ecco che non c'è alcuna pseudo oscillazione E quando questo supera questo Il grafico è fatto così Dal valore iniziale Al massimo riesce magari ad andare sotto Sembra cercare di tornare Però addirittura non lo supera più Cioè va sotto, va a x negativi Poi ritorna ma non rimane sempre sotto Questo si chiama oscillazione critica Questo è sovracritica Ma di fatto non c'è nessun tentativo Non c'è nessuna pseudo oscillazione La vedete semplicemente sedersi Questo è come dovrebbero funzionare Gli ammortizzatori buoni I meccanici Quando voi ricevete una botta Con un buon ammortizzatore Ammortizzatori nuovi nella vostra automobile Cosa fa la macchina? Si siede, dopo aver ricevuto la botta Si siede subito Ma se il fluido viscoso Nell'ammortizzatore è finito Se l'ammortizzatore è scarico E dentro l'ammortizzatore avete solo la molla Senza il fluido che lo sgancia Quando ricevete la botta La macchina fa così Ed è pericolosissimo Perché nella risalita Perdete aderenza e finite fuori strada Un buon ammortizzatore Quando riceve la botta Deve sedersi Senza andare e tornare Al massimo va sotto E poi si riassesta Ma non va avanti indietro avanti indietro Anzi pseudo avanti indietro avanti indietro Pseudo Quindi un meccanico vuole Vuole che il suo fluido Non ci siano oscillazioni Lui vuole che questo sia maggiore di quello Un elettronico invece Se ha un circuito che ha la pretesa Di captare un segnale radio Di una sorgente lontana Vuole che il suo circuito Vada in oscillazione Perché se gli elettroni Vanno un po' avanti indietro Con un amplificatore riesco A aumentare il segnale e sentire Berlusconi Ma se Questo O l'equivalente Se l'analogo con questo Un circuito elettronico E' troppo grande rispetto a questo Il circuito non oscilla Quindi uno che costruisce Un oscillatore Quando ovviamente rifaremo questo Con i circuiti Quindi tutta questa matematica La rifaremo velocemente Tra 5 mesi Questa è la versione matematica Ma la rifaremo nel contesto Nel elettromagnetismo E un elettronico Che capta un segnale Vuole essere in questo regime Scusatevi Non col segno uguale Ma vuole essere in questo regime Perché vuole che il circuito oscilli Vuole che vada su e giù Perché nell'andare su e giù Forse riesca a prendere il segnale E amplificarlo Un meccanico O un automobilista Che non vuole che la macchina Esca di strada Vuole lavorare in questo regime Ok? Pesante Lo so Lezione pesante Però Francamente Non so come dirlo meglio Ci sono parecchi schizzi Nei miei appunti personali In molti libri queste cose Vengono discusse Questo è il meglio Che io posso fare Nel tempo che vedo a disposizione Grazie